che a noi ricorda luca mora eccola bello qui non sempre avevamo raccontato in lungo ma ci hanno chiuso il canale si torno è so che mi dirà che siete chiusi avevo visto una porta aperta lì giurerei a questa è la coppa ecco la challenge la chef cap mi aveva spiegato il direttore che era qua eccola qua e arrivano le pizze vedete eccolo spogliatoia consorzio per i voli affascinante andiamo al pullman magari ritorniamo che cos'è direttore che ruolo ha lei sono un giornalista racconto tanto tante figure che cos'è no 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 non c'entro che cos'è è uno sponsor accompagni i ragazzini e basta mi scusi è insomma una a una maglia inequivocabile non può non centrarci eccetto grazie vero volle io ho fiso a storia adesso adesso mi dirà che devo uscire secondo un copione consolidato e abbiamo già vissuto tra l'altro mi hanno chiuso il canale secondo youtube e tutto il lavoro fatto l'ultima volta non c'è più ecco perché rifaccio qualcosa sport innovazione responsabilità sociale bellissimo bellissimo